CS Las Vegas, Consumer Electronics Show, è una fiera annuale organizzata dalla Consumer Technology Association CTA. È una delle più grandi fiere tecnologiche al mondo, con esposizioni di aziende che presentano i loro ultimi prodotti e tecnologie nell'industria dell'elettronica di consumo. CS di solito si svolge in gennaio a Las Vegas, Nevada e attira visitatori da tutto il mondo, tra cui media, analisti del settore e acquirenti. La fiera presenta una vasta gamma di prodotti, tra cui elettrodomestici per la casa, dispositivi elettronici e tecnologie all'avanguardia come la realtà virtuale aumentata, l'intelligenza artificiale e le auto a guida autonoma. Le date per la CS 2023 sono state fissate per il 5-8 gennaio e l'esposizione si terrà nel suo punto abituale al fantastico Centro Congressi di Las Vegas. La più grande e importante manifestazione tecnologica del pianeta è la CS. Ci sono 3.900 aziende espositrici alla fiera, che copre una superficie di 1,75 milioni di metri quadrati netti, meno della metà della dimensione di città del Vaticano, e è frequentata da ogni importante azienda tecnologica. Il CS è la più grande manifestazione di networking business to business al mondo, che riunisce rappresentanti di ogni settore, tra cui manifatturiero, ingegneria, intrattenimento e perfino sanità. Oltre 170.000 persone da tutto il mondo partecipano alla fiera, compresse 68.000 dirigenti di alto livello. In risposta diretta alla CS, vengono stipulati accordi, si formano alleanze e vengono create nuove opportunità di lavoro. Alla CS, l'innovazione prende vita. La fiera presenterà tecnologie che trasformeranno le vite di tutto il mondo. Ecco alcune delle tendenze chiave che saranno presentate in quest'anno, intelligenza artificiale, compresa voce e deep learning machine, connettività 5G, tecnologia di guida autonoma, città intelligenti, case intelligenti, robotica, AR, Verona, biometria, sicurezza, sport e altro ancora. La CS è da sempre e continua ad essere il principale luogo per condurre affari da oltre 50 anni. Ogni importante azienda tecnologica partecipa al CS esibendosi, tenendo conferenze, sponsorizzando, partecipando o ospitando eventi che sono collocati in loco. Al CS, attraverso incontri casuali, incontri pianificati e eventi speciali, vengono conclusi accordi e vengono instaurate partnership. Mentre alcune fiere commerciali si concentrano su mercati di prodotto specializzati o sono più localizzate, il CS copre tutto ciò che riguarda la tecnologia per il consumatore, dal wireless all'automotive e tutto il resto, e rappresenta l'intero mercato globale. Come espositore al CS 2023, puoi anticipare e presentare i tuoi prodotti a un pubblico globale di responsabili decisionali di alto livello. Per esplorare l'hardware di tecnologia per consumatori, i contenuti, la distribuzione di tecnologie e i sistemi di media, i visitatori di oltre 160 paesi si riuniscono di solito nei padiglioni della fiera. Al CS 2023, fornitori e sviluppatori di un'ampia gamma di categorie di prodotto, come la connettività 5G, l'IA, AR e Verona, le città intelligenti, gli sport e la robotica, trovano un podio ideale per creare partnership per l'innovazione e aumentare le vendite. Le sorprendenti innovazioni sia delle grandi che delle piccole imprese che debuttano al CS sono una parte importante della meraviglia e dell'ammirazione dell'evento. Tendenze di grande scala alla fiera, incluso l'IA, 5G, città intelligenti e altro. Oltre 3.900 aziende presenteranno oltre 20.000 nuovi prodotti in 24 diverse categorie di prodotto. Quest'anno include un numero di nuove categorie di prodotto di nicchia chiamate marketplaces che mostreranno la direzione in cui si sta muovendo il nostro settore, come quelle dedicate alle smart cities, alla tecnologia per gli sport, all'intelligenza artificiale e al design e alla fonte dei prodotti. Le start-up di primo piano possono essere trovate al CS, oltre alle ben note marche internazionali. Quest'anno, più di 900 start-up provenienti da 42 paesi diversi saranno rappresentate nell'hub per le start-up alla fiera, Eureka Park, che è in aumento del 50% rispetto all'anno scorso. Più di 1.100 start-up in Eureka Park hanno raccolto 1,15 miliardi di dollari dal 2012. Ogni anno, la Fiera dell'Elettronica di Consumo attira importanti relatori keynote dal mondo della tecnologia per discutere il futuro della tecnologia e il suo impatto sulla società e sull'ambiente. Solo alcuni dei presentatori della fiera includono HTC, Nvidia e TikTok. Gli organizzatori dell'evento creano sempre un programma pieno di sessioni formative e eventi ancillari su argomenti relativi alla tecnologia alimentare, alle case intelligenti e alle tecnologie dei veicoli. La sfida delle auto autonome, un evento che promuove la tecnologia autonoma e offre agli studenti universitari STEM l'opportunità di intraprendere una carriera nella tecnologia, ha una lunga storia di eventi emozionanti al CS. Anche se le migliori tariffe alberghiere sono ancora disponibili, prenota il tuo hotel CS 2023 vicino al Las Vegas Convention Center il prima possibile. Le principali aziende tech di tutto il mondo partecipano regolarmente al CS a Las Vegas, una delle conferenze tech più famose in Nord America. Per quattro giorni di lanci di prodotto, opportunità di networking e conferenze di esperti, le principali marche aziende del settore della tecnologia per il consumo si riuniscono all'evento Tech CS. Oltre 180.000 partecipanti e 5.000 espositori, compresi top executive da tutto il mondo, partecipano regolarmente allo spettacolo. Il CS e le tendenze che ne derivano sono coperte da quasi 7.000 rappresentanti dei media. Uno degli obiettivi principali del CS, il Consumer Electronics Show, è quello di rappresentare la diversità in tutte le sfaccettature e livelli dell'industria tech, quindi non sorprende che la fiera del commercio presenti un gruppo così eterogeneo di esperti tech, da giocatori globali affermati a startup tech agili. Nonostante le preoccupazioni per il Covid-19 e il ritiro di Microsoft ignite come risultato, la conferenza tech ha attirato 40.000 partecipanti nel 2022. Gli Innovation Awards onorees presenteranno le top imprese di startup tecnologiche, come i TV Isense 8K e lo zaino Targus alimentato dalla tecnologia Apple. I rappresentanti delle principali marche tech sono di solito presenti nella line-up, tra cui Bosch, Canon e Hyundai, per citarne solo alcuni. Ogni gennaio, il CS a Las Vegas offre un'impressionante introduzione continentale e internazionale agli avanzamenti tecnologici che potrebbero migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano. Tra tutte le altre conferenze tecnologiche, CS offre la più ampia selezione di prodotti grazie alle innovazioni chiave in mostra nei campi dei big data, delle auto a guida autonoma e del machine learning. L'evento Media Days esclusivo per i media della Consumer Technology Association CTA offre un'utile anteprima dei prodotti presentati allo spettacolo. Le annunciate keynotes per il CS 2023 sono emozionanti. In uno degli eventi tecnologici più importanti negli Stati Uniti, il dottore Lisa Su, presidente e CEO di AMD, terrà un discorso keynote in diretta. Il dottore Lisa Su incoraggerà le persone e le donne di tutte le origini a intraprendere carriere nel STEM perché è un ingegnere che ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali presso affidabili imprese del Silicon Valley, tra cui produttori di semiconduttori. La vetrina del CS 2023 si concentrerà pesantemente sulle più innovative tecnologie di AMD nell'elaborazione ad alte prestazioni, negli A e nei videogiochi. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale.